ciao a tutti ragazzi e bentornati qua sul mio canale youtube oggi monteremo uno sfiter numero 14 che è l'ultima che farò il video cioè no non aumenteremo il farò vedere e la monta in live su istaco come sempre e questa è l'ultima quindi buona uscite quindi questo è l'ultimo video del ferro di trasporto quindi salutatelo mi raccomando iscrivetevi al mio canale siamo sempre sempre più in tanti e siamo arrivati a 129 iscritti molto buono il traguardo quasi a 130 forse farò un video speciale adesso devo vedere e poi ci saranno tante altre sorprese il mio canale proseguirà tutto adesso con il lavoro e le vacanze come l'ho detto nel precedente video farò fatica farò più live su istaco però farò fatica a fare i video su youtube purtroppo e per questioni di tempo anche perché non riesco veramente tanto non chiuderò il canale ovviamente non ci mancherebbe quello no proseguirò e avrò successo secondo me nella storia di youtube finché non finirò tutti i modellini che quando non faranno più nessun modellino allora si vedrà cosa si può parlare e si può fare io sono in vacanza come ho detto quindi vi auguro buone vacanze a tutti divertitevi mi raccomando io andrò via cioè sono già vado qua nei dentoni va va lasciamo stare non si può dire e niente e quindi però non farò molti molti video in queste due settimane che sono in vacanza mi diverto me la spasso è tutto non è che posso andare a fare i video capite capite soprattutto adesso che sono sempre via quindi allora veniamo subito il libro direttore sportivi lini e tod ma non mi interessa molto la storia però io solo ho letto questa parte qua della pagina del giornalista non ci ho capito molto e dovrò continuare adesso in queste zone e non ancora letto tutto e traverso superiore e inferiore dei telaio diventerà molto bello ve lo consiglio di far da una parte dall'altra molti di fatte quindi ve lo sconsiglio di farlo e di proseguire e vedete diventerà cioè si proseguirà e si monterà nel telaio il camion ferrari cioè il motore del camion ferrari che ce l'ho proprio qua a portata in mano nella prossima uscita che ve lo sconsiglio poi se volete prendetela e c'è la sale anteriore della motrice molla e balasta della sospensione anteriore attacco inferiore dell'ammortizzatore della sospensione anteriore quindi c'è un po di tutto ma fa schifo veramente tanto ho visto il video già e ve lo sconsiglio veramente di continuare è una schifessa di modellino poi se non avete passione come ho detto nel precedente video non andate avanti non proseguite i modellini mi raccomando seguite il mio consiglio ve lo consiglio veramente tanto come ho fatto io che ho smesso con questo modellino ma inizierò non si può dire ancora però una sbizzatina me la posso anche dire però sto zitto vedete ad agosto cosa succederà nel mio canale ovviamente proseguiranno le mie uscite come sto facendo finora però non qua in live su instagram solo il camion e no solo l'orient express dopo farò tutte le tutti i video su instagram e su youtube però qualche volta farò anche una live su instagram che è più bello un po e un po non posso fare solo il l'orient express poi sponsorizzerò altri nuovi prodotti che sono già andati a buon fine e farò abbastanza cose nuove dai vedrete che il mio canale diventerà bello poi forse ho cambiato la sigla come avete visto ho cambiato il nome del canale e poi sto aumentando gli iscritti sto avendo abbastanza successo non so quanti mi piacciono che non riesco a vederlo e un'altra c'è l'opzione e tutto comunque parla dei piloti niente chi se ne frega e monateli allora qua ci sono i passi vedete ci sono tutti i passi del camion ferretti a sport e da monotare però lo monteremo in live su instagram come ho detto quindi iscrivetevi al canale commentate e attivate la campanella e mettete mi piace se il video vi è piaciuto mi raccomando iscrivetevi al canale passo un mese questo mese e andrò avanti anche con dei pacchi che mi sono arrivate con i miei modellini di tutto eccetera perché è molto molto bello sono arrivati abbastanza pacchi e dovrò proseguire mi sono fermato un po per la situazione anche kit farò in live su instagram soprattutto mi raccomando sintonizzatevi capite sul mio canale siete sempre in tante quindi vi saluto e ci vediamo al prossimo video buone vacanze a tutti e divertite ciao al prossimo video